bella raga benvenuti in questo nuovo video su bitamods oggi una bella larga distanza creata da simone dnv se non sbaglio vi lascio comunque il link in descrizione della larga e andiamo a vedere che cosa ha creato è la prima gara che è il gioco sua quindi vediamo un po' andiamo a scoprire questo creatore è una larga che era fatta da 30, noi siamo entrati in 14, quasi metà lobby ci sono 92 check e andiamo subito a vedere c'era la possibilità di scegliere le super e io ovviamente ho scelto la mia preferita la devest scusami non so se ti ho trollato io, sei stato trollato allora via 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 pure la televisione che mi si spegne da... mi è uscito l'avviso che si poteva spegnere ok andiamo proseguiamo allora marios, marios il primero allora fino adesso bella larguita eh una bella larguita vediamo un po' si si allora si chiama larga distanza bene credevo che c'era il nome del creatore ma c'è scritto soltanto larga distanza oh pericolosa questa curvita pericolosa 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 rimettiamoci bene ok oh oh no 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 va bene respawniamo ok prima trollatina nella larga eh prima trollatina nella larga allora il primo è porchitaly andiamo 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 dai che sono tutti qua è appena iniziata bella calda calda questa larga distanza andiamo subito a recuperare il primero beh suoniamo il clacson così andiamo più veloci non è vero scherzo allora occhio a questa curvita e andiamo 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 allora via 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 13 secondi da porchitaly andiamo a recuperare porchitaly ci siamo trollati a vicenda in quella curva ce l'ha scritto anche nella descrizione attenzione alla prima curva eeeh siamo stati noi a non sentire il creators occhio Daniele occhio occhio Daniele occhio 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 qua si trollano tutti mamma mia mamma mia ci passiamo? si si oh oh piano 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 andiamo andiamo con calmi ragazzi calmi 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 dai diciamo che dove vado io? procede bene la larga se non sbaglio strada andiamo allora 13 secondi sempre da porchitaly ecco FK Best una bella curvita a gomito non l'abbiamo proprio poi si è bene bene questa curvita e andiamo andiamo prendiamo un po' di cordolino qua 19 su 92 eh ancora abbiamo la possibilità di di recuperare allora allora eccolo 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 ehi qua ehi qua FK Best questo girotondo qua questo girotondo oh qua ci scontriamo eh ok ci siamo ci siamo ci siamo perfetto perfetto dai andiamo andiamo 18 secondi mamma mia se corre porchitaly eh mamma mia se corre porchitaly andiamo 26 su 92 dai dai che ancora è bella calda bella calda calda la larga distanza e sono tutti qua eh sono tutti qua andiamo 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 cosa ci abbiamo avanti FK Best sempre si si sempre FK Best avanti andiamo 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 quella curvita iniziale eh ce l'ha scritto nella descrizione di fare attenzione però noi ci siamo andati proprio dritti praticamente allora qua si è trollato FK Best vediamo un po' no 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 è avanti avanti a noi avanti a noi allora 12 secondi da Pork Italy qualche secondo l'abbiamo recuperato perché prima erano 18 quindi l'aiuto giocatore in coda si sente eh per fortuna in modo da recuperare qualche position e andiamo a vedere andiamo a vedere qua nessuno si trolla la strada è tranquilla quindi dobbiamo impegnarci per poter ok l'ho detto l'ho appena detto qualcuno si è trollato in questa curvita eh bene 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 eccolo qua eccolo qua eccolo qua chi era Daniele 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 vai bella curvita questa bella curvita anche questa via andiamo abbiamo recuperato qualcosa qui eh quando iniziano le curvite qualcuno sbaglia ecco appunto e riusciamo a recuperare qualche position il segnale non l'avevo visto ok andiamo 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 quarta posizione qualcosa l'abbiamo recuperata dai 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 che si continua si continua bene si continua bene vediamo anche questo marciapiede perfetto curvita spettacolare io non ci fate caso i segnali li prendo sempre proprio scamb scamb ah mo mi impiccio mi impiccio mo allora andiamo evitiamo non riesco a dirlo sono impegnato andiamo allora mamma mia mi sto trollando con l'auto con le parole con tutto con tutto va bene andiamo allora che abbiamo avanti adesso che si trolla perfetto andiamo bella curvita bella curvita non è una bella curvita mamma mia mamma mia mi ha laggata un attimo anche la sessione però vabbò andiamo meno male che siamo pochi che saranno in 30 qua la sessione non so quanto poteva laggare allora bella bella curvita non mi trollare anche se ti sei trollato tu quinta position porchitaly non è più primo allora che abbiamo qua fk best quarta position e andiamo dai tutto sommato non è non sta andando male dai tutto sommato tutto sommato non sta andando male qui destra o sinistra destra andiamo a destra ragazzoli ho fatto anche io una bella larga particolare ve la porterò ovviamente sul canale bella tutta dedicata con i veicoli arena quindi ci sarà da ridere no daniele no chi è fk best ci sarà da ridere ovviamente ho dovuto lasciare i veicoli stock ragazzuoli perchè ho dovuto lasciare i veicoli stock perchè ovviamente diventava un casino per le mine per i salti e per tutto tutto il resto quindi ho lasciato i veicoli stock per questo per questo motivo però è divertente lo stesso perchè ho messo mi sono divertito un po' in questa larga mi sono divertito un po' con i check ho messo delle robe particolari la potete già iniziare a giocare si trova sul mio social club larga larga arena war ragazzuoli andate a vedere cosa vi ho combinato non vi voglio spoilerare niente voglio che andate a vedere voi ovviamente di che cosa si tratta qua nel frattempo ragazzuoli siamo 77 97 su 92 check vediamo un po' vediamo un po' che cosa si può fare se riusciamo a recuperare magari qualcosa anche alla fine è già capitato che eravamo ultimi addirittura e poi siamo arrivati primieri anche nelle live stesse quindi vediamo un po' vediamo un po' ci siamo un po' trollati in qualche curva però capita nelle larghe capita capita nelle larghe qua ecco ad esempio come questo non capivo manco dov'era la strada perfetto siamo alla possibilità di un podios adesso non ce l'abbiamo più va bene va bene non importa andiamo qua nel frattempo ci sta recuperando anche fk best bene 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 84 su 85 mi sa che se dobbiamo accontentare soltanto di una quarta massimo massimo quinta position allora curva fatta alla perfezione questa eh ok la primera se la sono presa già perfetto ottimo 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 terza pesa allora vediamo di prenderci questo questo rame che oltretutto dopo le trollate madonna mia no è qua il traguardo è qui ci siamo perfetto ragazzuoli se vi è piaciuta la larga distanza lasciate un bel like condividete iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video bella ciao